A Cerignola i carabinieri nel corso di alcuni controlli antidroga hanno arrestato negli ultimi giorni complessivamente 5 persone accusate di detenzione e i fini di spaccio di droga. A Rocchetta Sant'Antonio durante controlli alla circolazione lungo la statale 655 hanno fermato il conducente di un'auto nel cui abitacolo sono stati rinvenuti 150 grammi di marijuana e circa 200 euro in contanti considerati provento di spaccio. L'uomo ha ottenuto i domiciliari. A Cerignola nel corso di un servizio in centro urbano hanno intimato l'alta di un motociclo il cui conducente alla vista dei militari ha tentato la fuga effettuando manovre pericolose e ha provato a disfarsi lungo il tragitto di un involucro in cello fan contenente 45 grammi di cocaina recuperati. I carabinieri hanno poi effettuato una perquisizione nell'abitazione di un uomo che era gli arresti domiciliari per reati specifici a cui interno nascosti dietro il frigo della cucina sono stati trovati e sequestrati 36 grammi di cocaina e 600 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è andato in carcere. Nel corso dei servizi di osservazione hanno anche effettuato un controllo ad un uomo agli arresti domiciliari accusati di aver nascosto all'interno di un cespuglio una borsa contenente circa 400 grammi tra cocaina, acisce e marijuana sottoposti a sequestro. Inoltre i militari hanno arrestato in un uomo che avrebbe occultato nella propria auto 41 dosi di cocaina già pronte per essere vendute al dettaglio.